Aggressioni e atti intimidatori nei confronti di un loro coetaneo, pretendendo ogni mese 500 euro, in caso contrario. Erano schiaffi, botte e minacce. Sandu e Ion Rotaru, due fratelli di origine moldava di 20 e 19 anni, residenti a Borgo Santa Maria di Pesaro, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di estorsione continuata e aggravata. Avevano preso di mera un diciottenne del posto, incolpandolo di averli denunciati per spaccio di droga, un pretesto inventato per impaurire la vittima e distorcergli dei soldi. Questo avveniva quando usciva da scuola oppure in altri luoghi di aggregazione giovanile dove riuscivano a rintracciarlo. Erano diventati dei veri bulli che creavano un clima di terrore ovunque passassero. Purtroppo non era più tranquillo il diciottenne, lo incontravano fuori da scuola. Un episodio che poi ha scatenato il tutto era avvenuto in un locale pubblico di sera. In questa circostanza la vittima è stata costretta a consegnare a uno dei due la somma, a quello più giovane, di 20 euro, l'unica somma di denaro che aveva con sé. Nello scorso gennaio i due si erano fatti dare 500 euro, poi altri 500 a febbraio e 400 euro a pochi giorni fa. Ma a differenza delle prime due volte, all'ultima richiesta il diciottenne aveva informato i genitori che hanno denunciato tutto ai militari. Appena Sanduro Daru, già noto alle forze dell'ordine, è infilato nel bauletto dello scooter i 400 euro di acconto, i carabinieri sono usciti fuori e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Accanto ai soldi è stato trovato anche un coltello da cucina. Il fratello più piccolo invece è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, tenuto conto della pericolosità sociale e del pericolo di fuga. Il 19enne infatti partecipava alle minacce e in un'occasione avrebbe ritirato il denaro. Entrambi, sia l'arresto che il fermo, sono stati convalidati dalla GIP e il Tribunale di Pesaro e quindi le indagini proseguono da parte della Procura della Repubblica di Pesaro e entrambi sono ancora ristretti in carcere. È importante quindi, questo è il segnale, che queste azioni devono essere denunciate sia nell'ambito familiare e poi quando si concretizzano azioni delittuose, gravi come in questo caso, alle forze dell'ordine e quindi ai carabinieri.